E' pervenuta un'email alla nostra redazione dove un signore ci ha dettagliato che in questa strada, che come vedete è piena di curve, parcheggiano le autovetture per essere accolte qui dalla braceria tenuta antica. Ovviamente ci prima di dare la licenza è possibile invece dare anche delle aree di sosta, noi riteniamo di sì. Quindi sindaco, se è possibile creare delle aree di sosta, in modo che c'è l'impresa, un ristorante come questo, una braceria, possa disporre in sicurezza di un'area dove possa far parcheggiare queste autovetture. Ovviamente, come vedete in curva, quindi una volta parcheggiate le vetture, la gareggiata si restringe, quindi in un solo lato si devono avere i due sensi ed è pericoloso. Ditelo a noi.